La location rappresenta un'ottima scelta per celebrare le vostre nozze da sogno. Immersa nel verde della pianura padana, la struttura si caratterizza per l'eleganza della sua architettura neoclassica. Il giorno più importante della vostra vita sarà indimenticabile anche per i vostri invitati. Il castello è composto da differenti spazi interni ed esterni. Il ristorante, al cui interno sono presenti due eleganti e grandi saloni con una capienza di 140 e 220 persone e un profumato giardino, vi regaleranno scorci unici per le vostre foto ricordo. La location, con professionalità, precisione ed eleganza, vi garantisce degli ottimi servizi, tra i quali la cura degli allestimenti e l'intrattenimento musicale, senza trascurare il reportage fotografico e la mise en place. Potrete celebrare la vostra unione, civile o religiosa, in loco, grazie agli spazi apprezzati messi a vostra disposizione. Chef specializzati vi proporranno deliziosi piatti tradizionali e stagionali, usando sempre ingredienti freschi e genuini. Inoltre, potrete trascorrere la vostra prima notte di nozze nella struttura, con la possibilità di rilassarvi nella palestra attrezzata o nella lussuosa area piscina. Grazie a tutti!